La musica? Un divertimento impararla e insegnarla con I Love Music. Sette, come le note, i suoi punti di forza. La consolidata leadership Petrini nel mercato. L'innovazione e l'efficacia delle proposte didattiche. Le due versioni, blu e rossa, per rispondere a diverse esigenze. La ricchezza della dotazione multimediale. La possibilità di unificare i momenti dell'ascolto e della produzione nella nuova ottica delle competenze. Zona Musica, il portale più completo per insegnare e imparare la musica. Il concorso Talent, con ricchi premi in palio per le classi vincitrici. L'ambiente educativo composito, fatto di libro misto, risorse multimediali, sito web, rende più facile l'insegnamento e più piacevole l'apprendimento. Due edizioni, due esigenze. Insegnare prima la grammatica della musica oppure suonare subito. Nella versione blu, la teoria musicale è trattata in modo ampio. Molti gli esercizi da svolgere direttamente sul libro, altrettanti quelli da eseguire in forma quasi di videogioco nell'applicazione digitale. Nella versione rossa, la teoria musicale è inserita in pillole all'interno del metodo per suonare. In questo modo, ogni regola teorica proposta viene subito messa in pratica con l'esecuzione strumentale. I metodi sono impostati per difficoltà progressive. L'antologia non è più una sezione a sé del libro, ma è proposta man mano all'interno dei metodi, sulla base delle reali difficoltà dei brani. Il player digitale per imparare a fare musica è uno strumento di grandissima efficacia. Rende possibile visualizzare sullo schermo lo spartito con i simboli musicali che cambiano colore in sincronia con la base. Attivare o disattivare la melodia o la voce. Aumentare o diminuire la velocità del brano nella fase di studio. E ancora, scrivere musica, riascoltarla, modificarla. Ma soprattutto, registrare la propria esecuzione e capire dove si sta sbagliando. Fondamentale per lo studio a casa. La presenza delle partiture dei brani studiati nella storia della musica, della canzone e del jazz permette anche di suonarli, integrando i due momenti dell'ascolto e dell'esecuzione nell'ottica delle competenze. E poi ci sono i video del libro digitale. Grandi artisti, grandi direttori d'orchestra, grandi esecuzioni. Ogni banco diventa una poltrona di prima fila. Ma c'è di più! Zona musica. Un sito per suonare, cantare, ascoltare, comporre musica e scaricare basi e spartiti. Ricco di strumenti concepiti anche per la LIM e l'apprendimento a distanza. I Love Music propone anche un'innovativa sezione per la musica d'assieme, spartiti per coro e orchestra, basi professionali realizzate con strumenti e voci live che permettono di cantare e suonare contemporaneamente, superando il problema della tonalità e di realizzare concerti di qualità. Le classi, poi, potranno partecipare al concorso inviando le registrazioni video delle loro performance. Il talento, a volte, è una questione di... classe. I volumi, in linea con le ultime indicazioni ministeriali, sono disponibili in formato cartaceo, in versione e-book, in formato digitale sfogliabile e sono sempre corredati dei relativi contenuti digitali integrativi. I Love Music. Prendete nota. Scegliete la nuova proposta Petrini.